Vedremo quest'estate la regia di Robert Rodriguez impegnata nell'adattamento cinematografico di Alita, Angelo della Battaglia, la pellicola tratta dall'omonimo manga del 1991 di Yukito Kishiro, che vedrà come protagonista Rosa Salazar proprio nei panni del keyboard Alita. Ambientato in un mondo post-apocalittico, in cui morte e distruzione regnano sovrani, la storia gira attorno al dottor Hido, Shristoff Watz, che ritrova in una discarica un keyboard, ovvero Alita. E con il passare del tempo Hido si renderà conto che Alita, in quanto Angelo della Morte, potrà mettere fine a questo cerchio distruttivo in cui il mondo ruota da almeno 300 anni. Qui di seguito potete vedere il trailer del film, l'uscita al cinema di Alita, Angelo della Battaglia e prevista per il 20 luglio 2018.